Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Le marche nelle ultime settimane hanno raggiunto la cosiddetta fase di plateau, ma i dati Covid non accendono a scendere o se lo fanno con un andamento molto lento. Non deve ingannare infatti il rapporto del lunedì, che conta 714 nuovi positivi nelle marche nelle ultime 24 ore. Un risultato condizionato dai pochi tamponi testati nel corso del fine settimana ne sono stati effettuati 2115, di cui 1749 nel percorso diagnostico e 366 in quello dei guariti, con una percentuale di positività in salita e di poco inferiore al 41%. Cala nel frattempo il tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti, che oggi è a 900. Nella ripartizione dei casi per provincia, la maglia nera spetta ancora ad Ancona con 242 nuovi positivi, seguita da Ascoli con 140, Macerata 130, Pesaro Urbino 95, Fermo 82, mentre 25 sono quelli da fuori regione. A proposito del Piceno, seconda provincia più colpita, c'è particolare attenzione su un focolaio Covid che riguarda circa 55 dipendenti dell'area Vasta 5, gli impiegati all'ospedale Mazzoni, in particolare al pronto soccorso di Ascoli, nonostante qui resti la suddivisione dei percorsi sporco e pulito. Il direttore dell'area Vasta 5, Massimo Esposito, non nasconde qualche difficoltà a livello di organizzazione del lavoro e spera che sia davvero l'ultimo colpo di coda del virus, grazie all'arrivo della primavera. Allora, la situazione è quella che stiamo verificando giorno per giorno, che comunque continuano a esserci delle situazioni di contagio, nella popolazione e chiaramente anche nel personale. Al momento sono circa una cinquantina di dipendenti che sono stati contagiati, chiaramente che sono allontanati dal servizio, però speriamo che con, in pratica, anche la buona stagione che si sta avvicinando, possa esserci un ulteriore decremento della curva epidemica, che al momento non presenta delle situazioni rilevanti di gravità da richiedere numerosi ricoveri nelle aree intensive e semi-intensive. I pazienti positivi invece? I pazienti positivi sono circa una trentina a ieri, quindi gli ultimi dati di oggi non li ho ancora acquisiti, ma sono in fase di rilevazione. Comunque stiamo contenendo questa fase, sperando sempre che ci sia un ulteriore decremento.